Siamo in epoca di PNRR e vale la pena di chiedersi anche quale valore aggiunto può dare al PNRR, al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la partecipazione dei cittadini. Ora come tutti sanno ormai, è due anni che se ne parla, il PNRR è il precipitato di un'iniziativa europea, Next Generation EU, che è stata fondata per volontà della Commissione sull'assunto, e cito fra virgolette l'espressione della Commissione, di un ruolo guida e attivo dei cittadini nel definire le nostre europee priorità e il nostro livello di ambizione per la costruzione di un'Europa più resiliente e sostenibile. Ecco perché i piani nazionali di ripresa e resilienza devono essere aperti e partecipati dai cittadini. Questo è l'approccio che ha voluto l'Unione Europea, che ha ribadito anche in linea guida sull'uso dei fondi. Ma perché questo approccio? Perché la partecipazione dei cittadini tramite gli strumenti della democrazia partecipativa è una garanzia di maggiore efficacia delle politiche pubbliche. È un modo per responsabilizzare i soggetti pubblici chiamati a dare attuazione ai progetti di investimento. Perché gli strumenti di partecipazione sono incubatori di capitale sociale? Infatti aumentano la fiducia fra i cittadini e fra questi e le istituzioni pubbliche. Perché educano i cittadini a prendere sul serio la propria responsabilità di persone che esercitano la sovranità, così come ci dice l'articolo 1 della Costituzione. A Monte dunque c'è un problema di identità civica. Avere ciascuno di noi la consapevolezza di essere cittadini nazionali e cittadini europei. E dunque sapere di godere di diritti, ma di avere anche responsabilità e i doveri. E vivere questo status di cittadinanza nazionale ed europea con consapevolezza. Già lo diceva Mazzini nel 1830, i doveri dell'uomo. Ce lo dicono chiaramente alcune norme della Costituzione, l'articolo 2 e l'articolo 54. Ce lo dice la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui ultimo capoverso del preambolo parla di responsabilità generate dall'esercizio dei diritti proclamati dalla Carta. Responsabilità che devono essere esercitate nelle comunità di appartenenza e a vantaggio delle future generazioni. Per questo motivo sono nati laboratori di monitoraggio civico, uno dei quali è quello nato in Università Cattolica che prende il nome da un avverbio latino, libenter, che vuol dire volentieri. Ma vuol dire anche e anche l'acronimo di una espressione che noi abbiamo voluto dare alla nostra iniziativa civica di monitoraggio. L'Italia è un bene comune, nuova, trasparente, europea e responsabile. Quindi monitoraggio civico come strumento di responsabilizzazione nostra e per aiutare la responsabilizzazione dei pubblici poteri.